ingredienti dosi per quattro persone 200 grammi di bresaola 100 grammi di parmigiano 100 grammi di champignon poca senape limone olio sale pepe preparazione mettere la bresaola tagliata finemente su un piatto da portata distribuirvi sopra il grana tagliato a scaglie i funghi puliti e tagliate a lamelle emulsionare l'olio con il succo di limone la senape il sale e il pepe versare questa salsa sulla bresaola e servire il piatto è pronto buon appetito